Venerdì 14 febbraio. Sia Silvana è venuta a trovare papà in compagnia di zio Filippo. Con la scusa di mostrargli la mia collezione di dischi, l'ho attirata in camera mia. Lei si era sempre dimostrata gentile e disponibile nei miei confronti ed io impazzivo per il suo viso d'angelo e il suo portamento regale. Nonostante la presenza dello zio in casa, non ho esitato a corteggiarla e con mio grande stupore lei ha ceduto alle mie avanze senza alcun problema. Vai, vai, vai a così. Sì, oh, succhia bella. Tutto mocca, dai. Le sorprese oggi non sono mancate e la più grande mi è stata offerta dal comportamento di zio Filippo che non ha battuto ciglio nel vedere la moglie che chiamava con me, anzi si è divertito anche lui a guardarmi mentre me la scopavo, dandomi addirittura una mano a farla godere. ... Buon appetito. Ah, la sborra, ah, è arrivata, la bella sborrata.